Io sono arrivato al Parlamento europeo e nella Commissione Sviluppo, Cooperazione Sviluppo, sapevamo che l'obiettivo due anni fa era quello di raggiungere lo 0,7 del PIL da parte dei Paesi membri negli aiuti allo sviluppo. Naturalmente questo è un trend che in questo momento è molto difficile da sostenere e poi ci sono Paesi che non ci credono, l'Italia è allo 0,1%, molto sotto la media europea. Credere nello sviluppo è credere nel proprio futuro.